salve a tutti oggi andiamo a disegnare una fetta d'anguria effetto acquerello per prima cosa selezioniamo una matita hb per il bozzetto mentre utilizzeremo il pennello gouache per la colorazione e per il blending cambiamo colore usiamo il verde per il bordo della boccia ed effettuiamo con lo stesso tipo di pennello il blending sia per il rosso che per il verde utilizziamo un secondo passaggio con dei colori un po più forti per ultimo completiamo l'ombra con un nero e disegno spero che questo tutorial vi sia piaciuto vi aspetto al prossimo video